GF VIP, Luca Onestini e Oriana Marzoli mentono Daniele Dal Moro, c'entra, ingiustamente, Nikita Pelezzon. All'interno della casa del grande fratello VIP la tensione continua a crescere, la finale infatti si avvicina sempre di più. I geffini quindi, quando durante la puntata arriva il momento delle nomination, devono fare i propri calcoli ma alle volte qualcosa va storto. Al grande fratello VIP è andato in scena un momento controverso che ha coinvolto diversi concorrenti, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Micolin Corvaia, Jaele Dedona, Daniele Dal Moro e Nikita Pelezzon. Durante le nominationne l'ultima puntata, infatti, Jaele ha nominato proprio Daniele. Tuttavia, Luca e Oriana hanno cercato di confondere lo stesso Dal Moro chiedendo a lui e a Micol chi avesse nominato Jaele. Luca e Oriana hanno suggerito quindi, i nomi di Nikita e Antonella e convinto Daniele che Jaele avesse nominato la pelizzone e non lui. Ma perché mentire così? E, soprattutto, verrà fuori la verità? Fotocredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolition Italy, Music, Memories From Bensound? Come leggi anche, Oriana e la frase sulla sessualità di Nikita, cosa dichiara Onestini lasciandolo di stucco? Ok, per favore essai, ma tanta' Come Dwanz tand likely? Come a nuovi alle le persone ghiare! іть Ameranzi che aver sc wristlas la bipoli canale, Does punto diment balfice shooting soir e gli frapponi di Hel claimed Otricone e anche da morire gli bambötti Il risiko della punished regione tra 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 e da er Schnee che scredito da tra 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 re Fra Grazie a tutti.